Ciao ragazzi, buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare le nostre clienti che ci hanno raggiunto da lontano, da Formia, da Secondigliano, che sono venute qui in negozio ad acquistare gli articoli per corredino. Grazie mille, grazie tantissime. Adesso vi vado a mostrare questo corredino di Paolo, il corredino di 100 euro. Vi faccio vedere da cosa è composto. Vi ricordo pagina Facebook Sogno Blu o su Instagram Sogno Blu Abbigliamento. Compose per carrozzina, camicina della fortuna, un accappatoio, tre quadrate di garza, copertina di ciniglia, tre paia di calzini, sei bavette, tre ghettine in caldo cotone, un cappellino, quattro body. Poi a scelta fra numerosi completini in ciniglia, oppure questi che vi sto mostrando in lana. Scegliete le taglie e gli articoli. Poi la signora Veronica, a parte, ha acquistato anche altri articoli. Quindi seguitici sui social, vi aspetto in privato numerose. Speriamo concorrere GLS, pagamento di Paypal, bonifico bancario. Ciao e grazie.